Hanno vinto in salata tra gli uomini, Casciotti, tra le donne, cioè gli stessi vincitori della passata edizione, ma qualche sorpresa stava per capitare, tra gli uomini, questo ragazzino che è uscito dall'acqua veloce, Daniel De Benedetto, tra le donne la foratura della Casciotti. Sì, diciamo che la sorpresa maggiore, Maria Casciotti diciamo che se le gioca dalla sola, la manifestazione ormai è sua, la gestisce, la sa correre benissimo, per cui nonostante il problema della foratura non ha avuto nessun problema a vincere la gara e a portare a casa il risultato. Diciamo che invece la sorpresa del Benedetti tra i maschietti, per gli addetti ai lavori, è un ragazzo molto molto forte anche nel nuoto, nonostante ha fatto un percorso non proprio lineare, per cui ha allungato parecchio la traiettoria del nuoto, è andato bene anche in bicicletta, forse questa è la sorpresa maggiore, poi l'esperienza delle persone come Michele Insalata, e hanno avuto la meglio, però è un ragazzo giovane che crescerà tantissimo. E glielo auguriamo perché i giovani che vanno forti ci piacciono. Allora, noi abbiamo messo una postilla che sono solo posti belli, anzi bellissimi, perché riteniamo che ci sono parecchi posti in Abruzzo da valorizzare, questo è uno di quelli, sicuramente uno molto molto bello, gli attesi sono rimasti molto soddisfatti e molto colpiti dalla bellezza del lago della montagna spaccata di Alfedena, e non erano tantissimi atleti, nel senso che forse ce ne aspettavamo qualcuno in più, abbiamo avuto circa 170-180 partecipanti e la gara è andata bene, il caldo molto molto caldo, gli atleti l'hanno sofferto un pochino, poi abbiamo cercato di dargli una mano mettendo delle docce lungo il percorso bici, c'erano tre giri, per cui sono passati tre volte, abbiamo messo degli spugnaggi, parecchi ristori. Comunque la gara è piaciuta, gli atleti sono soddisfatti e di conseguenza lo siamo anche noi.